E poi far sentire, per favore. Qua, in casa tua. Cavolo! Ragazzi, adesso non potete vedere, ma c'era il K2 appoggiato al microfono. Dopo che hai detto ti puoi far vedere o qualcosa del genere, il K2 si è girato al contrario. Vi faccio vedere adesso in che stato è, ma ovviamente non l'avete visto prima. Ma è una cosa ambigua. Cioè, guardate. Era appoggiato col microfono e si è girato. Era appoggiato in questo modo. Era appoggiato in quel modo. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è qua? Cosa hai detto? Un verso bruttissimo. Sembrava così un rutto. Voglio sapere se puoi fare un rumore. Fai un rumore di là. Fai un rumore di là. Fai un rumore di là. Ciao! Fai un rumore. Voi evitare di illuminare quello strumento. Non sei capace? Non sei capace di illuminare quello strumento? No. Sì o no? Illumina lo strumento. Chi sei? Sì. No ma ragazzi. Ecco Giuda. Io sono anche tranquillo però non so come sia possibile questa cosa. Come ha fatto a cadere? Come ha fatto a cadere? Da di sopra? Come cavolo ha fatto a cadere da di sopra? Era affoggiato lì eh? Devo riguardare poi il video ma è una roba. Ti stai manifestando? Non ho capito questa cosa. Ti stai manifestando? Come ha fatto a far cadere il Ghost Boxper? Dimelo. Dile attraverso il Ghost Box. Come ha fatto a farlo cadere? Sei un uomo? Vieni qui? Sei Martin? Sei Filippo? Sei Filippo? Come? Hai fatto a cadere tu il Ghost Box? Sì. Come ha fatto a farlo cadere? Ragazzi è successa una cosa che è veramente strana. Non ho ancora capito. Prima si è girato il K2. E purtroppo quello non l'avete potuto vedere perché la telecamera non era a favore. Ma dopo è caduto il Ghost Box da una posizione da cui non poteva cadere. Ed è questa. Ce l'avevo qua. Sì. 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 Provo a spostarmi va. Ok. Visto che l'altra volta non l'abbiamo fatto, mi spostano nella stalla prima di andare sopra. Sì. 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 Puoi farlo accendere? Io non vedo nulla con il riflesso del freddo. Sì. 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 Puoi illuminare quello strumento. Se c'è qualcuno qua può farsi sentire, puoi illuminare quello strumento. Sì. 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 Puoi illuminare quello strumento per favore. Sì. 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 Ti vuoi far vedere? Cioè questa cosa comunque è strana La volta scorsa Non ha mai brillato il K2 Stasera che sono da solo Ha brillato sia nell'altra stanza Che qua dentro la stalla Quasi a comando Puoi riaccendere il K2? Per favore Quasi a comando Quasi a comando Puoi illuminare questo strumento che ho in mano io? Puoi passarmi anche vicino se vuoi Ma illumina questo strumento Ragazzi E' illuminato Illumina ancora questo strumento Passami vicino e illuminalo Puoi illuminarlo per favore? Puoi illuminarlo per favore? Puoi illuminarlo per favore? Ora non so se è suggestione Ma Per un momento è come se Ci fossero stati dei passi qua sopra i piani alti Illumina questo strumento Ok Ok Proviamo a vedere a fare questo esperimento allora il K2 qua puoi farlo accendere ora ti attacco il ghostbox e vediamo se non ti ho parlato ok vuoi dirmi qualcosa? Philip 3 4 5 Philipe 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 al citaільки 2 hai detto philipe di nuovo? hai detto philipe? 3 Dimmi dove sei Dimmi dove sei Sei qua? Dimmi qualcosa Io vado un attimo fuori Tu lascia detto qualcosa qua Sì 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 Grazie.